Beni per un valore stimato di oltre 300.000 euro riconducibili ad un noto esponente del clan mafioso di Cosa Nostra e Gemone, nel rione Mangiolopi di Messina, sono finiti sotto sequestro. La misura emessa dal Tribunale di Messina è stata eseguita dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Il soggetto, secondo gli inquirenti, Organical Clan, sin dal 2013, ha mantenuto inalterato per lungo periodo il proprio potere criminale, tanto da conservare i contatti con gli altri sodali intranei al clan o comunque vicini ad esso. Formalmente assunto prima presso il distributore di carburante intestata alla moglie del capo clan e poi presso il tabaccaio riferibile alla famiglia mafiosa, il soggetto colpito dall'odierno provvedimento era preposto, secondo quanto emerso dalle indagini, al delicatissimo ruolo di cassiere, con disponibilità delle chiavi del locale, ove le risorse incontanti erano custodite. Tra i più significativi contributi estrinsecati a carico del presunto, come rappresentati nella sentenza di appello del 2019 e confermata dalla Corte di Cassazione nel 2021, ricordiamo che il cassiere, oltre ad essere il tenutario del libro di cassa contenente le indicazioni dei proventi del gioco d'azzardo e delle estorsioni, è stato custode delle somme di denaro contante per conto del clan. Basti pensare che i militari del GICO, della Guardia di Finanza, sequestrarono nel corso delle indagini oltre 140.000 euro in un locale di cui il prevenuto aveva la disponibilità di accesso e ne custodiva le chiavi. Il predetto poi, oltre a mantenere i contatti con il commercialista al posto dei rappresentanti legali delle attività commerciali del clan, era presente sempre in occasione di controlli e sequestri di macchinette e videopoker illegali controllate dal sodalizio e posizionate nei vari locali situati a Messina. In particolare nel 2014, in occasione di un controllo della Guardia di Finanza, veniva incaricato dal capo clan di far scomparire tutti i documenti dall'ufficio. In definitiva, l'odierno provvedimento viene eseguito nei confronti di un soggetto a piena disposizione del gruppo e dei suoi multiformi interessi illeciti, integrando la condotta di chi si trova in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio criminale. I successivi approfondimenti economico-patrimoniali, quindi, condotti dagli specialisti del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Messina, estesi a tutto il nucleo familiare, hanno consentito di disvelare la disponibilità di beni in misura sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati, nonché la provenienza da parte degli stessi quale provento e o reimpiego dei delitti contestati, nei diversi gradi di giudizio. Il decreto eseguito in dato di Erna ad oggetto una unità immobiliare situata nel comune di Messina, un'autovettura, conti correnti e libretti di deposito al risparmio.